BELLO A TUTTI RAGAZI SONO SWAPPO GAMER La pelliccia rossa con tutto il pelo bianco E oggi andremo, come avrete capito dal titolo, a costruire la casa di Babbo Natale Sono qua in mezzo al nulla, tra l'altro sto anche morendo di freddo Perché quanti gradi ci sono? Meno 63 Diciamo che sono pochini, ma vabbè, fa niente Tant'è che adesso inizieremo a costruire questa benedettissima casa E io avevo progettato di farla qua Come vi ho detto a un po' di tempo avevo una sorpresina in servo per voi Adesso speriamo che venga una cosa bella perché io mi sono fatto tutti i disegnini su carta E speriamo che venga una bella cosa Tra l'altro ho finito anche l'acqua, ma vabbè, nel caso in cui mi venga sete andrò di corsa a prenderla Visto che da qualche parte qua ho visto dell'acqua Comunque, adesso vi spiego Farò una base 5x5 E inizierei col farla bene o male Qua Se magari si riuscisse a vedere qualcosa Qua dovrebbe andare bene Aspettate, magari un po' più indietro Ok, qua dovrebbe andare Ecco Da qua inizio a fare una base 5x5 E poi vi faccio vedere come si sviluppa il tutto Adesso metto giù tutte le strutture e vediamo come verrà Ok ragazzi, ho finito di fare la base per la casa Adesso tiro su le mura Le farò di 3 livelli perché voglio una costruzione abbastanza altina Non troppo ovviamente Anche perché sono solo 3 livelli Qua ci entrerà un po' di neve in casa Ma sarà una cosa a parer mio molto carina Non è vero È perché già l'avevo spostata una volta E non avevo voglia di spostarla un'altra volta Tutta la base Cioè tutta Avevo fatto qualche blocco Visto che poi mi sarebbe andato a compenetrare troppo con la neve Quindi l'ho spostata Tant'è che l'ho messa un pelo più avanti rispetto a dove l'avevo messa prima Non ho cambiato posizione Adesso tiro su queste 3 fila di mura Completamente E poi vediamo un attimino com'è il risultato finito Tra l'altro avevo in mente anche di fare una cosa Ma alcuni tipi di costruzione su arc Non si possono fare Perlomeno mettere i blocchi in certe posizioni Tipo che tagliano da qua a qua Non si può quindi ciccia Adesso io posiziono tutto La faccio alto 3 E poi vediamo com'è venuta Secondo me io me lo sono disegnato su carta Avviene una cosa Non grossissima Ma che ci può stare Ho praticamente finito di fare tutto Adesso mi sto prendendo Gli ingressi Che li avevo messi qua da qualche parte Adesso non li trovo più Vediamo dove cavolo sono No Non li ho craftati Li ho dimenticati a casa Porco Bue Ma davvero Non dirmi che gli ingressi Che la cosa Non dico più importante Però ho portato persino le finestre E non ho portato gli ingressi Vabbè Andrò a craftarmeli Direi proprio che devo craftarmi gli ingressi in pietra Che è qua sotto Allora Gli ingressi in pietra Mi manca Ne faccio soltanto uno Me ne servirebbero due tecnicamente Per quello che voglio fare io Però Per ora ne faccio soltanto uno Poi al massimo prendo la pietra E le robe che ho nel grifone E ci pensiamo Adesso devo mettere giù gli ingressi Come vi dicevo Perché se no Non mi prende Le ultime due strutture Che ho fatto Tac Qua dovrò mettere una rampa Se no ogni volta è un casino Per salire E ragazzi Così è come verrà Come grossezza Per intenderci La nostra casetta di Babbo Natale Poi ovviamente La abbellirò con finestre E colorandola tutta completamente E ve la farò vedere completa oggi Quindi Sarà un bel lavoraccio Sarà veramente un bel lavoraccio Magari cambiamo un attimo Prospettiva Dove ci sarà un po' più di luce L'ombra è di lì Quindi un po' più di luce Dovrebbe essere Di qua Ok Sì Non è grossissima Ma non è nemmeno piccola Ed è fatta di pietra Soprattutto La base Il tetto Andrò a farlo Di legno Per staccare anche un po' Perché non mi piace Fare tutto di pietra Quindi adesso E anche perché costava molto meno A dire il vero Come materiale Però esteticamente È anche molto più bello Soprattutto poi Da colorare di bianco Quindi Facciamo una cosa Inizio a farmi un attimino Due impalcature Se mi servono Ma non credo Mi prendo i materiali Inizio a mettere la porta Rinforzata E poi vi faccio vedere Un attimino Come sta avvenendo Tutto il lavoro Allora ragazzi Vi ho aumentato un pochino La luminosità Perché si sta facendo notte E non si vede molto Comunque Ho deciso di mettere Due soffitti Al posto di uno Adesso qua Dovrò andare a mettere Ad ogni tangolo Ad ogni angolo Dei pilastri Per far venire giù Il Il soffitto Nel senso Per Poter Piazzare Altri soffitti Se no non me li fa mettere Quindi Allora Allora No così mi fa schifo Così direi di sì E quindi Andrò a mettere Tutti i pilastri Del caso Perché Altrimenti Non mi farà mettere I I dannatissimi Soffitti Alla fine Ma Secondo me È anche una cosa Magari in più Un dettaglio in più Che Al quale non avevo Pensato Adesso Metto tutti i pilastri Faccio passare la notte Poi magari Vado un pelo avanti Inizio a fare il tetto Anche se di notte Vi faccio vedere Come viene La torta Quasi finita Perché poi La cosa grande Sarà Pitturarla Tutta questa Buongiorno Signor mammut Proprio addosso Mi deve venire Salve Minchè pieno Pieno Allora ragazzi Sto costruendo il tetto E come vedete Sta venendo Una cosa Gigantesca Il tetto Perché volevo fare Una costruzione Anche superiore E ho avuto Un attimino Di problemi Con le fondamente Inizialmente Se vi ricordate Prima ho messo Le fondamenta qua Che sarebbero I pilastri E niente Non mi piacevano Le ho spostate qua E poi ho tolto Queste Quindi prendendo Queste fondamenta Di quelle Dei pilastri Che avevamo messo qua Può fare a meno Adesso lo faccio Con tutte le Con tutte le colonne Diciamo Con tutti i pilastri Uno ve lo faccio vedere Magari Così Spero che venga una bella struttura Perché sarà abbastanza grossa A due piani Quindi Spero che ci sia Una bella Una bella Componente artistica Tra virgolettissime Nella struttura Che sto facendo Anche perché sta venendo Una specie di casetta A fungo Molto carina A parer mio Poi mi farete sapere Sotto nei commenti Se mi piace Adesso Scusate un momento Ruttino Ho mangiato troppo Oggi E Vediamo se così Me lo può fare Sì Ok Tac E me lo fa distruggere Come vedete Non si distrugge niente sopra E così abbiamo Ovviato Al Alla brutta cosa Che era metterle Lì interne E soprattutto Non ci ha distrutto Mezzo tetto E poi lo farò Anche dall'altra parte Comunque Mi da dei problemi Fondamenta Anche qua Per erigere dei muri E Quindi Niente Dovrò semplicemente Mettere dei Pilastri Li metto pari Quindi Ne metterei Uno qua Ma non così Che non mi piace Così E uno Qua Perché se no Viene una merda Direi che come ingresso Ci può stare Adesso magari Metto anche gli altri Vediamo come viene Soprattutto perché Se viene una schifezza Non va bene Anche perché Sti materiali Costano l'ira di dio E questi E questi non li avevo Preventivati Quindi Sì Ci può stare Ci può benissimo Stare Così Poi magari farò una cosa Allargherò un attimino La casa Perché così Mi sembra troppo Troppo stretta Beh ma poi Comunque sia Vedremo Adesso La modifico tutta E vi faccio vedere Pian pianino I progressi La casa L'ho finita Ho finito di costruirla Tutta Adesso ve la faccio vedere In giro Non mi piace Come Come è corta Per intenderci Allora Come larghezza Mi piace Adesso vi faccio vedere Ha frizzato un attimino il gioco Come larghezza Mi piace Il tetto è troppo sproporzionato Ma non lo Non ci penso nemmeno A distruggerlo Tutta la fatica che ho fatto A A A costruirlo Quindi Io direi Che questa Bellissima casetta Possiamo Allungarla Verso di noi Quindi Allunga Fare altre Cioè fare Ce le ho Mettere su Un'altra fila Di fondamenta E vedere come viene Non saprei Anzi Facciamo una cosa A me piace così Adesso vi faccio vedere Come è dentro E vi faccio vedere Entra grazie Dove si è Buggata Dove si è messa La scala La scala è fantastica A me piace un casino Sta cosa Non si nota Nemmeno Quindi si è messa qua Nelle assi di legno E il tetto qua Viene Grosso così Che poi tra l'altro Potremmo farci un altro piano Ma io adesso Volevo concentrarmi più che altro Sull'esterno Della casa Volevo colorarla Ah no cacchio Stavo mangiando Quando invece Devo bere Ok vado a bere Torno Comunque Fatemi sapere Adesso io comunque Sia la faccia La pitturo tutta Fatemi sapere Se così vi piace O se le allargheresti Di un altro blocco Di un altro Di un'altra fondamenta Per intenderci Quindi a posto che 5x5 Verrebbe qua Tutto 6x6 Che anche Secondo me Verrebbe anche meglio O perlomeno Non dico Tutta Magari Almeno la parte Qua dietro Perché vi spiego Tecnicamente Poi da dietro Volevo fare Un recinto Per metterci Dentro le renne Visto che questa qua È la casa di Babbo Natale Quale luogo migliore Dove trovare le renne Che poi andremo a prendere In un prossimo episodio Fatemi sapere Sotto nei commenti Io per ora La lascio così Vado a bere Torno E facciamo le decorazioni E pitturiamo Tutto Tutta la casa Allora ragazzi Adesso Ho preso Un attimino Le cose per pitturare E mi metto Qua sul tetto Perché Devo dare una parvenza Di neve A questo Benedettissimo Tetto Quindi Prenderei Allora Lui Sì Direi che va benissimo No 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 L'ho buttato L'ho buttato Volevo usarlo L'ho buttato Sono un pirlone Quindi Prenderei Il verniciatore spray Ok Perfetto E il pennello Perché non mi ricordo più Quali sono I Come si chiamano Le cose da selezionare Per Cioè le regioni Da selezionare Per Per far sì che Sia bianco sopra Quindi Vediamo se così funziona Allora sono La La 1 No Credo che sia la 5 Nemmeno la 6 Immaginavo Che era l'ultima Che sceglievo Comunque Quindi dobbiamo far diventare Bianca la regione 6 Ergo Vediamo se mi ricordo ancora Come si usa Sto cavolo di Ok Allora così Poi era Quello a destra R1 E il 6 Era No Era triangolo Ok Adesso vediamo Oh sì Dovrebbe venire Tutto Tutto bianco Così facciamo finta Che ci sia sopra La neve ragazzi Adesso faccio Tutto il tetto Poi vi faccio vedere Come è venuto Allora ragazzi Il tetto l'ho fatto E bianco E con un po' di fantasia Sembra che sia innevato Con molta fantasia Sembra che sia innevato E adesso Andiamo a fare La casa vera e propria Innanzitutto Volevo fare I pilastri verdi Perché direte verdi? Boh Proviamo a farli verdi E vediamo come vengono Perché il colore del Natale Come sappiamo tutti Sono il rosso Il bianco E il verde Perché il verde sì Quindi Adesso Solita cosa Vediamo un attimino Come viene Non mi ricordo più Quali sono Le Ancora fame C'ho finchia C'ho sempre fame Comunque Vediamo qual è il verde Qual è la parte Che viene verde Voglio le farei tutte verdi Così Siamo a posto Giusto Sono Bisogna fare la 6 La 2 E la 1 Applico vernice Adesso vediamo Rotiamolo un attimino Ci piace Tutto verde Più o meno Tutto verde Quindi devo fare anche La 5 La 4 Giusto Immagino E per forza Per forza di cose Comunque adesso Vediamo un attimo Come viene Io faccio La 1 La 2 La 4 La 5 La 6 Verdi E vediamo come viene Tecnicamente sarebbe così Adesso magari Facciamo venire anche un po' più di luce Io mangio Intanto Sennò sta Oh Già si vede un bel po' meglio Quindi Tutte Ne pensate Qua fa tutte le colonne verdi Muri rossi Con le finestre verde e rosse Dentro ci ho messo un camino Lo vedete lì in fondo E comunque sia Andremo avanti Ad addobbarla A finirla nel prossimo episodio Che uscirà il giorno stesso di Natale E si ragazzi Farò uscire due episodi di Ark di Fila Non l'ho mai fatto Ma Lo faccio per queste feste Vedete lì che ho messo i Io ho fatto i muri verdi Poi comunque sia Continueremo come vi ho detto A finirla nel prossimo episodio Nel quale Andremo a prendere anche delle renne Perché Che Babbo Natale sarei io Senza renne Guardatemi qua Scusate un attimo Si è mai visto un Babbo Natale senza renne? No Quindi nel prossimo episodio Finiremo La casa E andremo a prendere Queste benedettissime renne Per far sì che noi riusciamo a A consegnare i regali No scherzo Comunque L'episodio direi che È finito qua Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Ed iscrivetevi al canale Ricordatevi di darmi un consiglio Su Su come finire la La casa Perché Veramente Questa cosa qua Mi affligge Non so se allargarla di uno O no Fatemelo sapere nei commenti Comunque Ci vediamo Alla prossima Buon Natale E Bella Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti